Ciao a tutti, primo incontro sull'analisi dei sepolchere. Ci concentriamo questa volta sulla prima e seconda parte, destinando poi ad un secondo incontro, la terza e la quarta parte. Ci avverremo come sempre della presentazione di un PowerPoint che trovi sulla sezione del materiale didattico nel registro elettronico, partendo da un presupposto però molto importante che bisogna sempre tenere a mente leggendo i sepolchi, cioè che manca una argomentazione serrata, forte, che porta da un punto A ad un punto B. In realtà ciò che lega tutto il poema è un susseguirsi di immagini, di suggestioni, di figure, di analogie che il poeta sente e certamente comunica, ma che comunque a noi risulta un po' difficile cogliere nella sua conseguenzialità logica. Ciò nonostante, seguiamo lo schema bellissimo del nostro libro, pagina 646, che divide in quattro parti l'intero poema, mettendo in evidenza che la prima parte parla di che cosa? Della insoddisfazione di Foscolo davanti alle tesi materialistiche che lui stesso aveva professato in Giovin Tu, ma anche nei sonetti, come avevamo visto nell'incontro precedente di introduzione ai sepolcri. In questa prima parte non soltanto esporrà le proprie convinzioni, quelle che erano state le proprie convinzioni materialistiche, ma anche il loro superamento. Cioè la funzione della tomba è anche affettiva, che ovviamente risponde ad un'ottica romantica e non certamente illuministica. Un mucchio di ossa non può costituire un affetto in un'ottica nazionale. Il poeta si pone una domanda essenziale, infatti, all'inizio, che vedremo proprio nei primissimi versi. Cioè una domanda che potrebbe essere provocatoria per molti dei suoi contemporanei, potrebbe essere provocatoria per sé stesso, fino a qualche anno prima. Cioè, una volta che io sarò morto, la natura, il tempo, il futuro, la poesia stessa, che a che cosa serviranno? E soprattutto a cosa servirà una lapide, un sasso, dirà, che distingue il mio corpo, ciò che resta del mio corpo, da quello dei corpi di tanti altri uomini? È una domanda provocatoria. La vediamo appunto nei primissimi versi all'ombra dei cipresse dentro l'urne confortate di pianta e forse il sonno della morte mendura? Ove nel senso di quando, ma il sole per me e la terra non fecondi questa bella d'erbe, famiglia e di animali, e quando vaghe di lusinghe innanzi a me non danzeranno le ore future? Né da te, dolce amico, vedrò più il verso e la mesta armonia che lo governa, né più nel cuore mi parlerà lo spirito delle vergini muse e dell'amore, unico spirito a mia vita raminga? Ecco, dopo tutte queste, quando e quando e quando tutto questo verrà meno, quale sarà, ristore di perduti, un sasso, una lapide che distingue le mie dalle infinite ossa che in terra e in mare semina morte? Si vede chiaramente, no? Ove più il sole, quindi quando ormai la natura sarà, verrà meno. Quando ormai le ore future non ci saranno più davanti alla mia prospettiva esistenziale, non avrò più il tempo, e quando infine la poesia tua, ma anche la mia poesia verrà meno, la morte porterà via tutto. E allora a cosa servirà questo sasso che troviamo in fondo, un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa? A che serve? Una domanda di senso che ovviamente è domanda di tutti gli uomini normali, anche di Foscolo, che la sente in maniera forse più forte, in quanto forse più sensibile di altri. A che serve una lapide? A che serve una tomba? A che serve o anche un monumento funebre, o una semplice lapide che ricordi il mio nome, il mio cognome, la mia data di nascita e la mia data di morte? La risposta sembrerebbe essere ovviamente negativa. A niente. In un'ottica materialistica, sensistica, illuministica, la risposta è negativa. La risposta può essere soltanto a niente. A cosa serve? Nulla. E allora vediamo il superamento. Ecco, come il poeta, già ad un approccio semplicemente esistenziale, risponde che c'è una consolazione nell'avere una tomba. Da verso 23 sentiamo, ma perché, prea del tempo, a sé il mortale invidierà l'illusione che è spento pur lo sofferma all'imitar di di te? Non vive egli, forse anche sotterra, quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se bollestarla con sua vigure nella mente dei suoi? Celeste è questa corrispondenza ad amorosi sensi. Frase giustamente famosa perché sintetizza questa prima parte, ma sintetizza il superamento di posizioni meramente sensistiche da parte di Foscola. Cioè, serve a qualcosa la tomba? Serve come consolazione a me che sto per morire? Sapere che un domani avrò le cure, no? Le cure, le preoccupazioni, le occupazioni, il ricordo nella mente dei cari? Ecco, questo sì che è una consolazione, che ovviamente è un'illusione nell'ottica semplicemente sensistica. Ma noi già nell'ortis avevamo incontrato questo concetto di illusione che non ha una valenza ovviamente negativa. Nell'ottica nuovamente romantica di Foscolo, l'illusione significa bene. E quindi anche la tomba è un bene da seguire, da perseguire, da lasciare al morente. Ma perché toglierla? Lo dice, no? Verso 23, in maniera chiarissima. E a riprova di questa sostanziale utilità della tomba, del sepolcro, riporta gli effetti negativi. Quindi c'è un'argomentazione, anche per questo dico, facciamo attenzione, no? A dire che manca completamente. C'è un filologico, non sono parole o concetti casualmente avvicinati l'uno all'altro. C'è una dimostrazione a contrario, no? Per questo, gli effetti negativi dell'assenza di una tomba, come si possono verificare oggi, 1807, dopo l'editto di St. Claude, ma anche prima, verso la fine dell'Ottocento, quando cominciavano anche a Milano, anche sotto gli Ostreci, cominciavano a diffondersi delle leggi legate alla distanza dei cimiteri dall'abitato, alla semplicità dei sepolcri. Ecco, a riprovo di tutto questo, Fosco riporta gli effetti negativi che queste leggi hanno. E ci dice, pur nuova legge, fa riferimento esplicito all'editto di St. Claude, che abbiamo detto avere efficacia legislativa nel 1806, pur essendo stato emanato nel 1804 in Francia, pur nuova legge impone oggi i sepolcri fuori dei sguardi pietosi e contende il nome ai morti. E senza tomba giace il tuo sacerdote Ottalia. Ecco, l'esempio pratico è questo. L'esempio concreto, l'esempio negativo, se vogliamo, l'effetto che ha portato questa legge è che un uomo, un poeta della taglia, dello spessore di Parini, viene cancellato. Muore nel 1799, viene seppellito per sua stessa volontà testamentaria, in maniera molto semplice, però appunto quasi confuso con le tombe di altri personaggi certamente meno ragguardevoli. Per cui oggi a malapena si intravede quella che può essere la tomba di uno dei più grandi poeti di fine 1700 italiano. E Fosco non se ne rammarica. Dice, ma per colpa di questa legge, oggi è dimenticato da tutti. Ma andiamo avanti. E quindi? Se hai dimenticato da tutti? Beh, non è importante. Perché Parini aveva scritto un'opera satirica, Talia è la musa della poesia satirica, e Parini è il suo sacerdote, aveva scritto un'opera satirica per denunciare la corruzione dei costumi della nobiltà milanese, in particolare, rimando al video sulla colazione del giovin signore, per esempio, in generale, il giorno di Parini. Allora, se la tomba di Parini è ormai dimenticata, quasi nascosta, chi potrà mai cogliere l'ispirazione per scrivere altre poesie di utilità pubblica? Chi potrà mai satiraggiare contro gli austriaci, contro Napoleone, contro la nobiltà corrotta, contro la borghesia perversa, contro il popolino nullofacente? Chi potrà, se manca la tomba di Parini? Questo è un effetto negativo indubitabile. Quindi c'è una sorta di argomentazione logica per suffragare, quanto detto, nell'incipit dell'opera. C'è poi una lugubre descrizione del luogo di sepoltura di Parini, che è certamente debitrice, in qualche modo, delle tinte forti del preromanticismo. E ti rimando sempre al video sul preromanticismo alla poesia di Gray, con tutte le distinzioni che abbiamo fatto a suo tempo. Però dopo questa lugubre descrizione, la prima parte si conclude in una maniera molto, molto forte. Sugli estinti non sorge fiore, ove non sia di umane lodi, onorato ed amoroso pianto. Come a dire che cosa? Una cosa molto semplice, che la natura è impietosa e compie meccanicamente la sua opera distruttrice. Non c'è naturalmente la conservazione del corpo. Serve la civiltà, serve l'uomo, serve l'uomo che ricordi e conservando l'altro uomo morto prima di lui. La pietas verso i defunti è proprio della civiltà umana. C'è una correlazione stretta fra la civiltà umana e la pietà nei confronti dei defunti. Ed è questo l'incipit della seconda parte. Le tombe sono un segno di civiltà. E ancora una volta, a ripernovo di questo, riporta quattro esempi presi dalla storia dell'umanità, che decide di porre in una struttura chiastica il chi, è questa lettera greca, ma lo vedremo dopo. Comincia con un primo momento nel Medioevo. Il Medioevo è un momento negativo. Anche su questo io non mi fermo, lo dovrei fare circa ogni minuto, non mi fermo nell'etichettare come neoclassico, illuministico, preromantico, romantico, ogni affermazione. Capiamo come in questo autore tutto è perfettamente sovrapposto e perfettamente armonizzato. È impossibile. Questa è chiaramente un'impostazione della storia dell'uomo secondo l'illuminismo, ma non è importante per noi metterla adesso in rilievo. Però lo segnaliamo, lo registriamo. Nel Medioevo le tombe erano segno funesto, ti riporto semplicemente una delle tante immagini delle chiese italiane, in questo caso è un'immagine sepolcrata del Camposanto di Pisa, ma tutte le chiese d'Italia, soprattutto di epoca barocca sono impreziosite direi da immagini di questo genere che certamente risultano a noi e alla sensibilità contemporanea nostra risultano lugubri ma certamente sono in qualche caso specifico opere di arte di altissimo livello. Primo momento negativo, nel senso che nel mio Medioevo le tombe erano segno funesto, mettevano paura ai bambini, creavano un clima lugubre nelle chiese l'odore il cattivo odore dei morti si mescolava a quello dell'incenso delle funzioni religiose. Secondo punto, secondo punto nell'età classica al contrario erano segni positivi ce lo dice maici pressi eccetera di pure fluvi i zefiri impregnando perenne verde protendevano sull'urne per memoria perenne e preziosi vasi accogliano le lacrime imputive. Il contesto che viene descritto delle tombe dell'età classica in particolare della Grecia sono connotati positivamente. Terzo elemento invece è la Gran Bretagna di oggi c'è sempre un gioco temporale suo frappasente e passato per far vedere che la civiltà di sempre ha vissuto in maniera differente le tombe. Nella Gran Bretagna di oggi sono segni positivi le tombe pietosa e insania che faccare agli orti dei suburbani Avelli alle Bretagne vergine dove le conduce amore della perduta madre e continua così però sono positivi perché hanno un rapporto positivo bello simbiotico quasi con i sepolcri con i cimiteri e qui è un'immagine appunto di un cimitero inglese. Quarto momento che foscono mettere in rilievo quarto momento storico all'Italia di oggi dove invece sono inutili manifestazioni di grandezza già il dotte ricco il patrizio vulgo decore mente al bello italo regno nelle adulate regge a sepoltura già vivo e stemmi unica lave per cui è un qualcosa di negativo ma allora come si posiziona ovviamente c'è una posizione chiasmatica o chiastica dipende dal punto di vista la chi la chi è questa lettera in griega simile alla x ma non è la x non è la chi è la chi invece in cui appunto noi distinguiamo e fosco lo stesso distingue un primo momento il mio devo in cui le tombe sono funesti segni la Inghilterra attuale in cui le tombe sono positive l'età classica in cui ugualmente sono segni positivi l'Italia di oggi in cui sono segni invece negativi no si si no a b b a questo è lo schema classico che trovi quando si parla di struttura chiastica struttura a chi ma allora dopo la conclusione di questa argomentazione che appunto è tratta dalla dalla storia quindi non sono appunto suggestioni e basta ma sono ricordi concreti il discorso diventa un po' più personale verso 145 troviamo l'apparire del pronome personale noi a noi morte apparecchi riposate albergo ove una volta la fortuna cessi dalle vendette e l'amicizia raccolga non di tesore eredità ma caldi sensi e di libera calma l'esempio cioè il poeta spera di lasciare un'eredità di affetti e un esempio di impegno civile nei confronti degli altri è una po' velata neanche troppo velata polemica contro quella servile mediocrità di altri poeti altri intellettuali altri uomini politici sui contemporanei confronti del potere costituito cosa lascerà un uomo mediocre ecco poco e niente lui invece spera di lasciare un'eredità di affetti quindi a livello esistenziale un legame con qualcuno è un esempio di attività di attività politica possibile torniamo a quello che poi sarà il punto nodale della terza e quarta parte allora ti riporto come avevo detto all'inizio lo schema che trovo a pagina 646 del nostro libro che ha fatto molto bene lo scorro velocemente poi te lo leggerai sul libro però richiama in buona parte quello che ci siamo già detti però per farti capire che c'è comunque uno schema dietro quanto scritto non procede appunto a caso c'è un filo logico che però non è un filo razionale non è un saggio sui sepolcri e sulle leggi di Saint-Clau le leggi legate ai cimiteri nelle città in Italia fra la fine del settecento e inizio del mille ottocento c'è un filo logico che lega un concetto all'altro ma è un filo logico poetico volutamente evanescente allora per questo noi ci fermiamo qui perché evidentemente la terza e quarta parte hanno bisogno di un approfondimento ulteriore però appunto abbiamo già capito quali sono i presupposti su cui questa terza e quarta parte si basano alla prossima non è un filo logico e anche il filo logico che si basano non è un filo logico